Campobasso occupa gli ultimi posti della graduatoria nazionale dei capologhi di provincia in termini di raccolta differenziata. Un primato negativo che a dire il vero detiene da anni perché il servizio annunciato più volte anche dalle passate amministrazioni comunali non è mai partito. E dunque anche l'attività svolta fino ad oggi su questo settore della giunta guidata dal sindaco Battista non si è discostata da quanto fatto da chi l'ha preceduta. Almeno è quanto dicono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che sull'argomento hanno presentato una interpellanza per la quale attendono ancora una risposta. Ma nel frattempo Simone Cretella ha sferrato l'attacco all'indirizzo della maggioranza di Palazzo San Giorgio. Non è più tollerabile l'assoluto immobilismo dimostrato dall'amministrazione Battista, denunciato. Oltre ai falsi annunci impure o stile Renziano, ha proseguito. Finora non ha fatto praticamente nulla per migliorare i disastrosi risultati del servizio offerto dalla municipalizzata SEA. Secondo i 5 Stelle il servizio per le utenze domestiche è organizzato per la sola frazione secca dei rifiuti attraverso il sistema dei cassonetti stradali nei quali purtroppo viene depositato di tutto. Tra le principali carenze della gestione dei rifiuti, ha aggiunto Cretella, c'è l'impossibilità di raccogliere e valorizzare la frazione organica che costituisce circa un terzo dell'intera produzione, tant'è che i contenitori dell'umito vengono regolarmente mescolati a quelli dell'indifferenziato e avviati in discarica anziché verso i processi maggiormente virtuosi come il compostaggio, la produzione di biogassa, ha concluso Cretella. Campo Basso ancora all'anno zero dunque per quanto riguarda la raccolta differenziata che invece funziona da anni e con successo in molti altri comuni molisani e anche il timido tentativo avviato dalla passata amministrazione targata di Bartolomeo sembra essere fallito miseramente.